Nel corso della terza udienza del processo per l'omicidio di Marco Vannini, l'avvocato dell'accusa Celestino Ignazzi sta svolgendo la sua ringa, smontando le testimonianze e la narrazione della famiglia Ciontoli. Viene citato spesso Federico, figlio di Antonio, a cui viene attribuito un ruolo sicuramente più significativo di quanto fino ad ora emerso. Il ragazzo aveva parlato alla prima udienza mostrandosi completamente distrutto dalla vicenda. L'avvocato Celestino Ignazzi non risparmia parole dure nemmeno per la fidanzata di Federico, Viola Giorgini, non più indagata che all'udienza del 9 settembre aveva ricostruito l'accaduto di quella tragica notte. La ragazza era stata poi ripresa dai giudici perché il contenuto delle sue dichiarazioni era stato giudicato non completo.